Una buona giornata cari amici, mamma mia, vi devo confessare che ho ancora addosso il freddo di San Siro, serata veramente gelata allo stadio Meazza, ma serata che ha riscaldato ancora di più le ambizioni del Milan. Veniva chiesta una risposta alla squadra di Pioli dopo il primo KO di questo campionato, il primo dopo dieci mesi senza macchia in Serie A, la risposta direi che è arrivata. Contro un Torino che ha regalato il primo tempo fondamentalmente, ricadendo in certe problematiche che come sapete che io penso possono essere risolte solo attraverso un intervento tramite il mercato. Poi nella ripresa Giampaolo è tornato al suo 4-3-1-2, ha creato qualcosa di più, il Milan ha forse anche un filino tirato i remi in barca, però io direi che la vittoria del Milan è assolutamente legittima ed è una dimostrazione ancora importante. Alla vigilia di questo grande scontro diretto che vivremo oggi, per questo vi parlo presto, perché poi voglio dedicarmi, voglio prepararmi anche a Roma Inter, che è una partita potenzialmente bellissima e potenzialmente molto importante, della quale vorrei parlarvi in esclusiva con un video nel pomeriggio, vediamo se ce la faccio, però la mia idea è quella di fare un commento specifico a Roma Inter oggi pomeriggio. Poi abbiamo un grande turno questa domenica, perché ad esempio c'è una partita che mi interessa molto, che è quella fra Udinese e Napoli nella tornata delle gare delle 15, perché il Napoli deve dare una sterzata, altrimenti rischia di allontanarsi troppo. L'Udinese è una squadra che ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato, quindi non è una gara semplice per la formazione di Gattuso. Alle 18 c'è una partita addirittura drammatica per la zona bassa, Fiorentina contro Cagliari. Stasera abbiamo un bel posticipo brillante fra Juventus e Sassuolo, queste sono tutte partite di cui parlerò nel tradizionale commentone del lunedì mattina, mentre in questo video, oltre a parlare di Milan-Torino, di tutte le ripercussioni che avrà sulla classifica, dei messaggi che ha mandato la gara di ieri sera, mi soffermerò anche sui messaggi arrivati dalle partite del pomeriggio, perché da una parte abbiamo capito ormai chiaramente che è tornata l'Atalanta e mi è piaciuto molto Gasperini che ha detto alla fine della partita ci siamo messi nel campionato, ci mancava solo la vera Atalanta per far esplodere questo campionato e la vera Atalanta è questa, avendo ormai dimenticato il Papu Gomez in una situazione veramente particolare, che ha dei vincitori e dei vinti, ma il vincitore fondamentalmente è il calcio e del club che continua sulla propria linea, perché l'Atalanta ha vinto 4-1 a Benevento, risultato addirittura stretto per quello che ho visto, risultato che però si stava complicando, ne ne parliamo, della partita così come parleremo della vittoria pesantissima in zona salvezza del Genoa, il Genoa che con Ballardini ha svoltato, che sta svoltando con destro, che comincia a regalare dopo un po' di tempo dei gol pesanti e un risultato che inguaia un po', forse anche un po' più di un il Bologna di Mihailovic, squadra che dovrebbe competere per qualcos'altro e che se si ritrova lì a dover rannaspare, a dover sgomitare, ha sicuramente il carattere del suo allenatore, ma non so se ha un ugual carattere negli elementi del suo gruppo, per cui un po' di cose da dire su questo sabato di calcio ci sono, iniziamo ovviamente col parlare della partita che ho commentato io, che ho avuto veramente il piacere di commentare, freddo a parte, ma sono gli inconvenienti del mestiere e vi confesso che sono inconvenienti che si prendono volentieri quando si ha la possibilità di vivere questi momenti e di poter anche comunicare quello che si sta vivendo raccontando la partita, per cui parliamo di Milan-Torino. Ne parliamo partendo dalla vigilia, perché io credo che oltre ad aver fatto tutto bene sul campo, Pioli e il Milan in generale hanno avuto anche una grande idea nell'immediata vigilia. Vi do la mia lettura, che può essere magari un pochino fantasiosa, ma non so, perché hanno usato un po' l'aria di San Siro. Il Milan veniva dalla sconfitta con la Juventus, una sconfitta che non gli aveva tolto il primato, una sconfitta che non ha ridimensionato il Milan, perché ne abbiamo parlato, la Juventus ha vinto con le sue vampate, con i suoi campioni, con i suoi giocatori che la rendono la rosa più completa e più forte del campionato. Però il Milan, pur incontrando la sua prima sconfitta dopo 27 giornate con risultati utili, ne era uscito a testa alta e con la dimostrazione di avere una squadra, di avere un sistema di squadra. Però, dopo questa sconfitta, insomma, qualche preoccupazione ha cominciato ad alleggiare. Potrebbe essere il segnale che porta a un crollo, riuscirà a reagire subito in tre giorni, tante assenze, il Torino che arrivava in crescita, seppur leggera, comunque imbattuto da quattro partite. Era una gara difficile da affrontare per il Milan ed è arrivata questa vampata di aspettativa data dalle convocazioni, date per impossibili solo 24 ore prima, di Ibrahimovic-Chalanoglu. Lì il Milan ha contribuito a riattizzare attorno a sé l'entusiasmo, anche se lo stadio era vuoto, purtroppo è sempre così, però c'è stato secondo me un riattaccare la corrente nel Milan, quello che serviva. Poi chiaramente sia Ibrahimovic che Chalanoglu sono andati in panchina, entrambi hanno partecipato, Ibra per i minuti finali, per fare il ritmo. Per me lui avrebbe voluto anche giocare a titolare giustamente, è prevalsa la linea medica, la linea della prudenza, perché Ibrahimovic aveva saltato le ultime sette partite per un duplice problema. Prima la coscia, rimediato a Napoli il 22 novembre, e poi un risentimento al polpaccio, forse perché lui stesso non accetta di rimanere fuori e ha forzato un pochino. Chalanoglu invece ha giocato più di mezz'ora e questo è quasi un miracolo, viste le condizioni della sua caviglia, è entrato meno mobile, meno spavaldo nei suoi movimenti del solito, ma con la consueta classe. Però al di là di Ibrahimovic-Chalanoglu, ed è importante sottolineare al di là di Ibrahimovic-Chalanoglu, il Milan si è presentato a questa partita con un attacco completamente alternativo, perché hanno giocato Castiglieco, Brian Diaz e Auge dietro alle Auge, quindi fuori i quattro componenti dell'attacco titolare, sulla carta che sarebbero Salema Kers, Chalanoglu, Rebic e Ibrahimovic. Si è ripresentato con la difesa, il comparto difensivo titolare, e da quando è rientrato Kier la difesa ha ritrovato il proprio ministro, perché la presenza del danese è veramente importante, così come le parate di Donnarumma, che non è stato eccessivamente impegnato, ma la sua paratona l'ha calata comunque nel finale su quel tiro deviato di Segre, con Calabria riportato nella propria posizione, almeno all'inizio della partita. Conto Hernandez voglioso di riscatto dopo la prova contro Chiesa e tra l'altro costretto ad incrociare Singo, che è stato un altro bel test, perché è veramente un bel giocatore il laterale classe 2000 del Torino, e in mezzo al campo con Tonali che rientrava dalla squalifica al fianco di Chiesi. Quindi diverse assenze, ripeto i quattro davanti più Ben Nasser, anche se molti sono in rientro, Chalanoglu e Rebic, già Salema Kers e Ben Nasser potrebbero rivedersi a Cagliari. Bene, il Milan ha subito ripreso il discorso, perché complice anche un Torino veramente un po' troppo basso, un po' troppo timoroso, un po' troppo autolimitato nel primo tempo, e sapete bene come la penso, non credo che siano le principali le colpe di Giampaolo, che magari ogni tanto fa un pochino di confusione, però anche ieri sera ho visto un Giampaolo lucido nel cambiare al momento giusto la conformazione in squadra, semplicemente dopo aver chiuso 0-2 il primo tempo e anche con quella traversa sfortunatissima di Rodriguez, che alla seconda punizione quasi perfetta del suo campionato per il Torino c'era veramente poco da fare. Però poi con il 4-3-1-2 la squadra è stata rianimata, è una squadra che ha bisogno chiaramente di un'iniezione di potenziale dal mercato, soprattutto a centrocampo e magari con anche qualcuno che possa dare una mano maggiore a Belotti, perché Belotti poi è uscito nel finale sfibrato, pestato come al solito, Belotti negli ultimi due campionati è stato il giocatore che ha subito più falli di tutto in Serie A. Quest'anno è il giocatore che ha subito più falli di tutto in Serie A. Questo perché copre una zona di campo gigantesca, con una generosità incredibile, e prima o poi il conto si paga. Perché è vero che sembra di ferro Belotti, però prima o poi il conto si paga. Io credo che il mercato debba portare al Torino, sicuramente un organizzatore di gioco, un regista, un giocatore come Lobotka, mi sto seguendo i nomi che leggo, che sento fare, magari anche un giocatore come Pulgar, però un giocatore del genere davanti alla difesa. Perché Rincon è incomiabile. Rincon peraltro diffidato, è stato ammonito, salterà la partita fondamentale con lo Spezia, però erano due mesi quasi che era diffidato, per cui si è anche gestito bene nel gioco, ma quello non è il suo ruolo primario. Così come il Torino ha bisogno di una mezzala di qualità, perché Goyac è un giocatore ancora un po' sgonfio per poter essere un elemento trascinante per una squadra di Serie A. È un giocatore che ha delle qualità, però si è visto anche nel primo tempo contro il Milan, poche volte è stato protagonista. Linetti è un giocatore imprescindibile, è rimasto fuori dall'undici per la prima volta fra campionato e Coppa Italia in questa stagione, e Giampaolo l'ha dovuto mettere all'intervallo perché il Torino, già un centrocampo piuttosto misero, senza Linetti non può proprio stare in piedi. Lukic è un giocatore che ha trovato delle buone vampate dopo l'invenzione di Giampaolo all'inizio stagione di farlo trequartista, se ne ho tre gol consecutivi, poi però dopo la disavventura col Covid è rientrato con un impatto diverso e comunque da mezzala Lukic non trova pienamente lo scenario migliore. Sta rientrando un giocatore come Baselli nel Torino, è rimasto fuori quasi un anno, va in panchina regolarmente da qualche partita, non ha ancora fatto minuti, potrebbe farli martedì in Coppa Italia sempre a San Siro, sempre contro il Milan, e Baselli è da intendere per me ne più proprio da intermedio di qualità, da box to box, che non da play davanti alla difesa perché quel giocatore lì il Torino lo deve prendere sul mercato. Così come deve prendere magari un trequartista, vero? Perché è vero che Verdi in quella posizione può dare qualcosa ma non è la sua posizione naturale e molto probabilmente anche un attaccante credibile al fianco di Belotti perché poi è entrato Zaza e mi è parso piuttosto lontano dal mondo Granata. Bonazzoli è un volenteroso ma può funzionare come cambio perché il Torino ha bisogno anche di spessirsi a livello di Rosa per poter incidere con le sostituzioni. Sento parlare di Quame, penso possa essere un giocatore molto adatto a giocare con Belotti e a giocare nel Torino, però vedete il Toro ha bisogno di tre innesti, tre innesti dal mercato, tre innesti significativi, altrimenti la classifica che è tornata a portarlo nel delle posizioni di retrocessione potrebbe non modificarsi tanto da qui alla fine indipendentemente dall'allenatore. Queste sono le carenze del Torino. Tornando al discorso del Milan, partita fin da subito aggredita, partita giocata con la solita sicurezza, con il solito ordine, con le solite giocate mandate a memoria da questa squadra e l'ho detto anche a Pioli nel post partita sottolineando la parola squadra, il Milan lo è, indipendentemente dagli interpreti poi se gioca uno piuttosto che un altro chiaramente si hanno delle cose in più, ma non si hanno troppe cose in meno quando ci sono delle turnazioni forzate dalle indisponibilità. Una cosa che mi interessava molto della partita era vedere chi avrebbe assunto il pallino del gioco, perché fuori Ben Nasser e fuori Cialanoglu, ovvero il primo impostatore e il rifinitore principe, non solo della squadra ma direi del campionato, perché preparando la partita ho trovato tante statistiche, una di queste è che esistono solo tre giocatori nei cinque principali campionati d'Europa che hanno partecipato a più di cento tiri in questa stagione, ovvero tra quelli che hanno prodotto e tra le occasioni che hanno creato, uno di questi è Cialanoglu, gli altri due sono Messi e Bruno Fernandes, per cui parliamo veramente del gota a livello di incisività nella partita. Bene, senza Ben Nasser e senza Cialanoglu chi si è assunto la responsabilità primaria della costruzione del gioco? La risposta è stata la squadra, perché? Perché Tonali e Chessi rispetto ad altre volte sono integrati meglio, perché io ho visto, avevo commentato ad esempio la partita di Marassi con Genoa, Tonali e Chessi in mezzo al campo, Chessi bloccato e Tonali ad inserirsi costantemente, un po' limitato Chessi in quella partita, mentre in quella di ieri sera, finché Tonali è rimasto in campo, poi purtroppo ha subito un incidente strano, ci sono stati anche degli episodi, ne parlo come al solito marginalmente, perché lo stesso Gianpaolo mi ha dato grande soddisfazione nel post partita, dicendo sì, ok, parliamo degli episodi, ma la partita è stata un'altra cosa, il Torino non ha giocato il primo tempo, ha giocato il secondo, così va inteso il calcio. Poi gli episodi incidono, gli episodi vanno raccontati, vanno spiegati soprattutto, nei limiti del possibile, ma il calcio va inteso in questo modo. Bene, finché Tonali è stato in campo, io ho visto un equilibrio nelle prestazioni dei due mediani del Milan, e questa è una cosa importante, vuol dire un passo avanti ulteriore. Oltretutto, Brian Diaz, che ha preso a sua volta un pestone, è uscito presto dalla partita, ed è un peccato perché stava facendo bene, non è Cialanoglu a livello di andarsi a prendere il pallone e di far girare tutta la squadra, ma è un giocatore che dà impulsi, che dà guizzi. Infatti, Brian Diaz regala un assist meraviglioso sull'azione dell'1-0 e poi va a conquistarsi il rigore del 2-0. Brian Diaz è stato molto decisivo all'interno della partita. È un giocatore che deve ancora un pochino sviluppare senso collettivo, ma che ha un talento formidabile. Ha anche una discreta forza nella parte bassa del corpo. È un giocatore vero, Brian Diaz. Ed è un giocatore importante per questo Milan. Il Milan che l'ha giocata, l'ha lavorata, l'ha sbloccata con un'azione splendida, perché nell'azione dell'1-0 c'è il timing e anche il know-how calcistico di Teo Hernandez, che accelera il momento giusto quando si può rompere l'equilibrio e far saltare il banco. Offre il pallone a Brian Diaz. C'è la qualità, la qualità del trequartista spagnolo nella palla. E c'è il killer instinct di Leao, perché arriviamo poi alla vera figura del primo tempo, quantomeno, ovvero il Rafael Leao. Rafael Leao che ha segnato ancora. E sono 5 gol più 4 assist in campionato. 3 gol nelle ultime 5 partite giocate. 3 gol differenti. La partenza bruciante contro il Sassuolo, il gol da record. L'esposizione mirabolante del talento, il pallonetto contro il Benevento. Il senso del gol della punta. La rete contro il Torino. Rafael Leao forse, e io continuo a trovare gente che mi dicono che non è una prima punta, evidentemente è così, forse non è ancora un numero 9. Forse è davvero la seconda punta ideale. Siamo d'accordo tutti. Ma in questa posizione è sempre più credibile, perché è un giocatore sempre più continuo. È un giocatore estremamente lucido Rafael Leao, cosa che non era qualche tempo fa. Si è visto nel gol che ha fatto al Toro. Si vede anche, perché ho avuto occasione di rivederlo in questi giorni. Andate a rivedervi la gestione dell'azione del gol di Calabria contro la Juventus. Leao viene sbarcato da un bellissimo pallone in profondità di Aughe. Aughe che è ancora forse un po' acerbo per essere un titolare, però è un giocatore che non solo ha degli spunti tecnici, ma è anche applicato. L'ho visto fare un ottimo lavoro di aiuto a Teo Hernandez per contenere l'esuberanza di Singo. Tornando al gol di Calabria contro la Juve. Aughe dà una bella palla in profondità. La piccola esitazione che ha Leao appena prima di appoggiare il limite per Calabria, mandando a vuoto il movimento del rientrante difensore della Juve, è una cosa importante, è una cosa grande. E Leao ne sta facendo sempre di più. Leao sarà squalificato nella trasferta di Cagliari per l'ammunizione presa per simulazione, Pioli si è lamentato. Io vi dico la sensazione dall'alto della tribuna di San Siro era che fosse un fallo chiaro. Poi forse il contatto non c'è stato, però in quel momento lì toglie anche la gamma, perché sennò riscritte la portino via. Va bene, cartellino giallo e squalifica. Tanto torna Ebrahimovic che non vedeva l'ora di ripartire da titolare. Però Leao è un messaggio importante di questo momento e di questa partita. Poi è arrivato il 2-0 con il solito rigore glaciale di Chessy, sono sei in campionato per Chessy, meno uno dal record personale, stabilito nel secondo anno rosso-nero di sette gol, sei gol di Chessy. Io credo che siano un altro macigno su questo campionato, i sei gol di un giocatore. Come Chessy, rigore che si è procurato. Brahim Diaz e adesso arrivo agli episodi in qualche modo della partita. Al Milan è stato concesso un calcio di rigore tramite un fair review dopo che Maresca non aveva reputato il contatto fra Brahim Diaz e Belotti come un contatto da calcio di rigore. Io credo che Maresca abbia visto veramente poco di quella situazione lì, perché si vedeva dall'alto, era completamente impallato. È andato a rivederlo, ha dato il calcio di rigore. Poi Maresca invece nel secondo tempo ha dato un calcio di rigore al Torino per contatto fra Tonali e Verdi, salvo poi essere richiamato ancora dal Varguida, è andato a rivederlo, e ha invertito la decisione. Sono due episodi abbastanza al limite. Ripeto, non credo che siano gli episodi che hanno fatto la partita e penso anche che le due decisioni possano essere giuste, nel senso che il rigore per il Milan io credo che ci sia. La cosa paradossale è che Brahim Diaz, slalomeggi in area di rigore, si trovi ad affrontare le due punte del Torino. Prima Verdi che lo lascia andare e poi Belotti che lo ferma in questo contatto. È vero che Belotti giustamente protesta dicendo io non mi posso spostare, io sono fermo. È vero che Brahim Diaz forse è già leggermente troppo sbilanciato in avanti, però il senso è che il contatto fra la gamba di Belotti e quella di Brahim Diaz c'è. Per cui non so se si potesse considerare chiaro ed evidente errore non dare quel rigore, ma penso che Maresca abbia comunicato al Varguida. Sono mie supposizioni perché purtroppo i dialoghi fra arbitri e Varguida non sono ancora pubblici. Penso che gli abbia comunicato di non aver avuto una visuale ideale. E tutto sommato il rigore ci può stare. L'episodio invece del secondo tempo è ancora più borderline, nel senso che lì chiaro ed evidente errore per me non c'è. Nel senso che va bene dare il rigore e va bene non darlo. Perché l'azione è assolutamente al limite. Verdi scappa su una bellissima sponda di Belotti, Tonali si inserisce sulla sua corsa. È vero che Tonali non allarga minimamente la gamba e anzi si prende il tiro di Verdi proprio sul polpaccio ed esce per quel contatto. Però è ugualmente vero che Tonali non ha una chiara posizione di vantaggio rispetto al giocatore del Torino. Per cui se l'arbitro centrale dà rigore cambiarlo... Però, ripeto, questa è la disamina degli episodi di quello che io ho percepito dallo stadio e di quello che penso si possa dire. Chiusa qua la porta sugli episodi. Perché il resto è stata una partita in cui poi il Milan nel secondo tempo ha un pochino sofferto anche la nuova verva offensiva del Torino. Ci sono volute giocate individuali importanti. Chiusure dei centrali, ripiegamenti dei mediani, perché anche che si ha fatto un paio di chiusure difensive importanti, così come Teo Hernandez. Voglio sottolineare ancora una volta l'incredibile lucidità e l'incredibile continuità di rendimento di Calabria. Terzino, piuttosto che centrocampista centrale, appena è stato spostato lì in mezzo dopo l'ingresso di Dallò per Tonali, si è aperto un corridoio centrale per il Torino. Ed è quasi normale, perché comunque è un ruolo che Calabria non ha fatto qualche volta, ha giocato a centrocampo, ma ha giocato da mezzale e non centrocampo a tre. Lì però si è registrato immediatamente e poi è tornato a tamponare, prendere il pallone, distribuirlo sapientemente. Vive veramente un'annata d'oro, questo ragazzo delle giovanili del Milan. E per il resto sì, qualche rischio, una parata di Donnarumma, qualche situazione pericolosa, però vi dico la verità, la sensazione dallo stadio è che difficilmente il Torino avrebbe recuperato questa partita. Perché comunque, come il torneo si bilanciava, poteva avere momenti di fulgore, ma il Milan puzzechiava costantemente, andando di là, o con lanci lunghi precisi, o con sgroppate, o con situazioni. Poi alla fine io ho visto un attimo di gestione da parte del Milan, però tirando le somme di questa partita, dico che il Milan ha dato un altro messaggio forte. Vincere questo match, tre giorni dopo aver perso la prima di campionato, è già di per sé una risposta sul fatto che il Milan c'è e ci sarà. Portarsi a più 4 sull'Inter, che è impegnata oggi, nel match dell'ora di pranzo, a Roma, è un bel mettere pressione, perché a questo punto l'Inter la partita di Roma la deve vincere, perché poi avrà anche la Juventus. Di conseguenza terreno dal Milan non ne può perdere, e vincere per l'Inter oggi a Roma presuppone un qualcosa di grande. Primo perché non ricordo quest'anno una vittoria dell'Inter in un big match, e questo lo è indiscutibilmente. Secondo perché battere la Roma di questo periodo, è vero che non ricordo una vittoria della Roma in un big match, anzi, ricordo anche degli stop, però battere la Roma in questo momento vuol dire dare un messaggio ugualmente forte. Se l'Inter oggi vince a Roma, credo che questa coppia sarà la coppia da battere, anche per la Juventus che arriva in corsa, e che io continuo a dirvi che per me è la squadra più forte, anche se deve essere supportata dai risultati, e comunque questo è il momento, perché la Juve ha vinto a Milano, però affronta Sassuolo stasera, poi ci sarà la partita con l'Inter, ci saranno le partite con il Napoli in Supercoppa e il famigerato recupero di campionato, per cui il Milan il suo lo ha fatto, il Milan il suo messaggio lo ha dato, ora tocca agli altri, e questo modo di agire, di solito è il modo di agire di chi sta in alto, fino alla fine vedremo come, perché è un campionato veramente veramente intricato, anche perché a questa già piuttosto arruffata bagarre di vetta, come vi dicevo, si è unita l'Atalanta, ufficialmente, l'Atalanta che pare aver superato le incostanze, le difficoltà, anche un pochino secondo me i disorientamenti di inizio stagione, perché parliamo di un calcio veramente strano, veramente particolare, che per una squadra da fomento, da mille all'ora, da calcio veloce, da grandi dispendio energetico come l'Atalanta, risulta una penalizzazione ulteriore, perché i calendari sono compressi, perché non c'è il pubblico, perché fisiologicamente testa e gambe rispondono diversamente, l'Atalanta ha avuto delle problematiche, anche per alcune indisponibilità, anche per alcuni giocatori fondamentali da recuperare, e qua il discorso viene sulla vera stella dell'Atalanta di oggi, che torna ad essere la squadra, che torna ad essere il collettivo, perché poi è il gol fondamentale per rimettere la testa avanti, lo ha fatto Toloi, e l'Atalanta ha mandato in rete 14 giocatori in questo campionato, più di chiunque altro, per cui è sempre la squadra al centro di tutto, però oggi la squadra ruota attorno al talento meravigliosamente ritrovato di Josipilic. Ilici si è dominato al primo tempo, ha fatto gol, slalomeggiando, aiutato anche da un paio di scompensi difensivi del Benevento, però facendo un altro dei suoi gran gol, ha preso un palo da stropicciarsi gli occhi. L'Atalanta al primo tempo poteva chiuderlo sul 2 o sul 3 a 0. Ha avuto la colpa di non concretizzare abbastanza, un dominio totale contro una squadra come il Benevento, che mi pare non abbia abbassato la testa di fronte a nessuno quest'anno, specialmente in tempi recenti, per cui grande dimostrazione sul piano del gioco. E poi dimostrazione caratteriale, perché il Benevento, non sa forse neanche lui come, ma l'aveva ripresa la partita, sull'1 a 1, e lì ho pensato alla classica partita in cui una squadra bella, non concretizza e poi paga il conto. Non è andato assolutamente così, l'Atalanta si è rimessa in moto e ha finito in gloria, trovando ancora i gol dei suoi attaccanti. Sapata, partito titolare, e Muriel tenuto in panchina perché si presumeva fosse infortunato, è entrato ancora una volta come un'era di Dio, e questi sono capitali che valgono tantissimo. Perché poi Muriel potrà anche essere un pochino disturbato dal fatto di essere il miglior revulsivo, come dicono in Spagna, il miglior giocatore in grado di entrare dalla panchina e incidere sulla partita che ci sia in Italia e forse in Europa. Però questi sono panni fondamentali, specialmente nel calcio di oggi, delle cinque istituzioni, detto che Gasperini, soprattutto all'inizio stagione, ha dimostrato di credere alla possibilità di far giocare insieme Sapata e Muriel. Certo, più Ilicic si fa spessa, però l'Atalanta sta recuperando anche la grande capacità di essere taglienti dei suoi esterni. Sta recuperando anche i suoi equilibri l'Atalanta. L'Atalanta che fa tutto questo senza il Papu Gomez, che era il suo geometra, il suo pericentro tecnico, il suo fulcro di gioco. Il Papu Gomez sembra già incredibilmente il passato, perché questa squadra è tornata anche senza il suo numero dieci e il suo capitano. E questa credo che prima di tutto sia la vittoria del club, ma prima ancora la vittoria di Gasperini. Perché il contrasto è stato fra Papu Gomez e Gasperini. La società ha fatto una scelta chiara e Gasperini perché ha questo sorriso stampato sul volto, perché parla in questo modo, perché soffia sul fuoco, perché sa che è una vittoria sua. È lui che si è ripreso la sua squadra, è lui che ha ripresentato la sua squadra, non è il singolo giocatore ad aver dimostrato di essere determinante, ma è il sistema che prevale sul singolo, che esalta il singolo, che si esalta nell'apporto dei singoli, ma che poi è sistema. E l'Atalanta dà questo faboloso messaggio. E ha sconfitto un bene evento che, ripeto, ultimamente non ha abbassato la testa di fronte a nessuno, perché è una vittoria che ha grande valore. L'Atalanta deve ancora recuperare una partita, lo farà il 20 gennaio contro l'Udinese. Occhio, perché l'Atalanta c'è per i primi quattro posti e c'è rumorosamente. Per cui se noi guardiamo la classifica, pensiamo ai nomi coinvolti, mettiamoci sicuramente l'Atalanta, così come mettiamo sicuramente il Milan, l'Inter e la Juventus. Ci dobbiamo pensare seriamente per la Roma. Non si può non pensare a Napoli. Gran bella bagarre quest'anno per andare in Champions League, perché poi c'è comunque il Sassuolo che continua a navigare lì in alto. La Lazio, la Lazio cosa fa? Non partecipa a questa corsa? Mi sembra difficile. La Lazio gioca col Parma oggi. Il ritorno di D'Aversa sulla panchina del Parma è necessità assoluta per i bianco celesti di ingrassare la striscia di vittorie consecutive. Per cui anche lì c'è tanto, tanto da divertirsi. È un campionato fantastico quello che stiamo vivendo. Dal punto di vista emotivo, dal punto di vista dell'incertezza e anche dei messaggi tecnici che arrivano. Purtroppo è sempre un calcio legato a questo fatto che si gioca senza gente e che si gioca in condizioni molto particolari. Ed è un campionato che sarà molto caldo, molto incerto e molto pericoloso per tanti anche là sotto, perché il Genoa si è messo in moto. In questo caso il cambio di allenatore sembra aver dato una svolta chiara, perché da quando è arrivato Ballardini il Genoa ha fatto sette punti in quattro partite, ne ha persa una sola contro il Sassuolo, ha ottenuto la sua seconda vittoria in quattro partite in uno scontro determinante contro il Bologna. Sette punti in quattro partite, gli stessi punti che il Genoa ha fatto nelle precedenti tredici con Maran, per cui è una svolta dichiarata. Questi sono punti che valgono doppio. Ma sono anche punti che parlano di interventi tecnici, perché ad esempio il gol del vantaggio per il Genoa lo ha segnato Zayc. E il fatto di vedere un giocatore come Zayc che si ritrova, che è coinvolto, che è decisivo, è un messaggio bello per il livello tecnico del campionato, perché un giocatore come Zayc deve essere un protagonista del nostro campionato. E se un giocatore come Zayc è protagonista vuol dire che si gioca a calcio bene. Ballardini lo ha inserito, Mezzala, trequartista, ci sono ancora un po' di cose a sistemare e Ballardini è stato chiaro anche sul fatto che qualcosina a livello di mercato serve. Si parla di un nome grosso come quello di Strootman, che potrebbe dare alla mediana delle cose di cui il Genoa ha bisogno. Il Genoa ha bisogno di gol, li ha trovati con destro, non li sta più trovando con Scamacca, però destro forse si è anche un po' quadrato mentalmente, sta trovando dei gol importanti, pesanti. Io continuo ad essere affascinato, forse è una parola grossa, però continuo a vedere volentieri il calcio di Shomurodov, che è un attaccante che si integra molto bene, che è un attaccante di sacrificio, è un attaccante intelligente, è un attaccante con un buon livello, per cui il Genoa si è tirato fuori da una situazione che sembrava piuttosto cristallizzata, con tutti i problemi annessi per il Torino, per il Parma, per il Crotone che deve cominciare a fare un po' più di punti, ma anche per le altre. E fra queste altre c'è il Bologna. Come vi dicevo, il Bologna è incappato in una sconfitta pesante in un momento in cui doveva dare una svolta, perché io ho commentato Bologna-Udinese il 6 gennaio e leggendo il momento, leggendo i numeri, ma anche vedendo le immagini, avevo detto che il Bologna era di fronte a un'accoppiata di partite spartiacque. Fai sei punti con Udinese-Genoa, chiudi un certo tipo di discorso e ti affacci su un altro. Non li fai e rimani un po' nel guado. Il Bologna ne ha fatto uno fra Udinese-Genoa, per cui non solo è rimasto un po' a metà della propria strada, ma rischia di farsi trascinare indietro dalla corrente, perché il Bologna dopo 5 pareggi consecutivi è incappato in una sconfitta in quello che è uno scontro diretto e non si può negare. Il Bologna dei punti non ne ha tantissimi. Stanno arrivando, stanno arrivando tutte e quel che mi preoccupa in ottica Bologna è proprio il fatto che questa è una squadra che non è costruita per sgomitare, quello che vi dicevo all'inizio del video, per lottare con le unghie e con i denti per i punti. È una squadra tecnica, è una squadra giovane, è una squadra che deve avere un altro tipo di tranquillità addosso per potersi esprimere. Se il Bologna comincia a scottare la terra sotto i piedi, il Bologna è una squadra che rischia di farsi inghiottire, perché l'allenatore indubbiamente è il combattente del calcio italiano, però a volte anche un certo tipo di messaggi rischiano non solo di non attecchire in un certo tipo di giocatori, ma di essere addirittura controproducenti. Ora il Bologna deve ritrovare certe sue figure fondamentali, innanzitutto c'è anche proprio da ritrovare il pieno della rosa, perché il Bologna ha avuto tante indisponibilità nell'ultimo periodo. Però Barrow è un giocatore determinante. Barrow abbiamo visto che impatto ha avuto nella seconda parte della stagione scorsa, abbiamo visto quanto non ha fatto in questa stagione, sembrava essersi un po' ripreso con l'assist a Svanberg nella partita contro l'Udinese, una buona giocata, però è stata anche forse l'unica giocata importante della sua partita. Ha giocato Vignato contro il Genoa, che meritava questa titolarità perché sta facendo molto bene, ma Vignato è un classe 2000 alla sua prima vera stagione in Serie A. Palacio rimane sempre un giocatore incommiabile, però Palacio è un giocatore che il prossimo 5 di febbraio compie 39 anni e che non si ferma mai. C'è bisogno del miglior Rossolini, c'è bisogno del rientro di Sansone, c'è bisogno anche magari di far rifiatare un po' Sorietta. Tante cose avrebbe bisogno del Bologna, soprattutto di solidità difensiva, perché continua a prendere troppi gol, tanti gol evitabili. E occhio, il Bologna si deve tirar fuori velocemente dai discorsi salvezza e lo può fare solo a questo punto con una striscia significativa di vittorie, perché io ho l'impressione che lì sotto ci saranno tante squadre impegnate. Fiorentina Cagliari, lo ribadisco, oggi alle 18 è una partita pesantissima per nomi grossi coinvolti in questa lotta. E ci sono magari squadre che hanno un po' più di peso rispetto al Bologna per poter rimanere più o meno in piedi. Per cui la situazione attorno ai Rosso-Blu Emigliani mi sembra un pochino appesantita, mentre si sta alleggerendo il Genoa e infatti sale. Anche questa è una nota che ci sta dando questo fantastico campionato. Direi che abbiamo analizzato a fondo le partite del sabato, adesso ci proiettiamo su questo splendido programma della domenica, Roma-Inter alle 12.30. Ripeto, se riesco vi faccio un video dedicato. Ci provo, ci provo, secondo me gli impegni del pomeriggio. E poi tante altre gare fino ad arrivare a Juventus Sassuolo di questa sera e sicuramente di tutte le gare della domenica parleremo nel classico video di domani per cui vi auguro una grande domenica di calcio e ci rivediamo prestissimo sempre qui insieme sul nostro canale.